A Trani c'è tempo fino al prossimo 10 febbraio per presentare la domanda di assegnazione dei contributi del fitto casa relativa all'anno 2020 ad annunciarlo l'amministrazione comunale attraverso anche la pubblicazione dell'avviso pubblico. I dettagli nella scheda di Damiana Sgaramella. È stato pubblicato dal Comune di Trani il Bando 2021 per l'assegnazione dei contributi e l'integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni relativo all'anno precedente. Alla procedura di assegnazione possono partecipare anche i percettori di reddito di cittadinanza. In seguito all'erogazione dei contributi il Comune comunicherà obbligatoriamente all'Inps i beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto. Le domande potranno essere presentate entro le ore 12 di giovedì 10 febbraio 2022. Ecco le modalità di presentazione della richiesta presso l'Ufficio Protocollo del Comune, spedita, mezzo di raccomandata oppure per via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata PEC o di un proprio delegato alla trasmissione avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento la documentazione integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate. Nella domanda di partecipazione al bando, infine, è necessario inserire l'Iban del diretto beneficiario per ottemperare le nuove disposizioni di contenimento del Covid-19. Nella domanda di politica Grazie a tutti